Con l'entrata in vigore della nuova direttiva europea sulla sicurezza dei pagamenti elettronici, si introducono importanti novità. Dal 14 settembre, scarica l'app My Private Banking e attiva il mobile token per l'accesso all'area clienti e l'operatività sull'home banking. Per accedere all'area clienti del tuo home banking, dopo aver inserito un numero cliente e PIN, ti verrà chiesto di autorizzare l'accesso utilizzando il mobile token attraverso una notifica push sul tuo smartphone. Per procedere, fai tap sulla notifica o apri l'app e autorizza l'accesso al tuo home banking. Conferma con il tuo PIN, con il Touch ID o gli altri strumenti di riconoscimento biometrico, se impostati. Dopo la conferma della login eseguita con successo, fai tap su Chiudi. Da questo momento puoi iniziare ad operare nella tua area clienti di bnl.it. Per autorizzare la disposizione di un bonifico SEPA, riceverai una notifica sul tuo smartphone. Fai tap sulla notifica push di autorizzazione o apri l'app. L'app ti permette di identificare cosa stai autorizzando in modo certo e univoco. Nel caso di bonifico SEPA, fornisce l'importo e l'Iban del beneficiario della richiesta. Fai tap su Autorizza. Confirma con il tuo PIN, Touch ID o gli altri strumenti di riconoscimento biometrico, se impostati per proseguire con l'operazione. E chiudi la comunicazione in app. Il tuo bonifico SEPA è autorizzato. Fai tap su Autorizza.